Buonasera a tutti e benvenuti. Scusate l'attesa, c'era un po' di traffico, Matteo è qui, è arrivato e iniziamo fra qualche minuto. Prima di iniziare volevo ringraziare l'amministrazione come è sempre presente, questa sera c'è il sindaco a Scania Cascella e altri membri dell'amministrazione che ringrazio di essere qui. In questa nuova serata a Velle di Libris è stato un percorso lungo già in queste settimane, stasera abbiamo un autore da voi molto amato, da noi seguito e abbiamo voluto fortemente portarlo a Velle di Libris proprio per dare un'opportunità diversa, un pubblico diverso perché solitamente abbiamo autori che magari non interessano a molti ragazzi giovani, questa sera abbiamo voluto darvi questa opportunità e spero siate tutti contenti. Quindi prima di iniziare vi do soltanto due informazioni così Matteo si sta preparando e sta arrivando, al termine chiaramente si farà il firmacopio come immaginate e come sperate, immagino molti di voi vorranno fare, l'unica cosa vi diamo un po' di attenzione, ossia Matteo resterà qui sul palco, la fila verrà fatta centrale, ci saranno diverse persone di noi che vi aiuteranno così si evita confusione e magari facciamo velocemente tutti. Le foto sono, c'è la nostra fotografa, Matteo ha chiesto di far fare chiaramente a lei le foto per evitare selfie e magari essere più complicato il firmacopio, quindi ci sarà una fotografa e domani troverete le foto pubblicate sulle nostre pagine. State tranquilli che tanto lui sta qui fino a che non si farà tutte le firmacopio di tutti, quindi senza accalcarci velocemente, con calma faremo il firmacopio. Scusate ma era doveroso. Vorrei ringraziare chiaramente Giacomo Zito, il direttore artistico della Fondarche, la fondazione di partecipazione che gestisce questo spazio e come sempre collabora con noi nell'organizzazione di questi eventi. Voleva lasciare appunto un saluto anche a lui e lo ringrazio ancora come al solito di essere presente e vicino. Grazie, grazie di cuore Guido, sono contentissimo anche di avere l'occasione di esprimere una considerazione in presenza del sindaco che è qui con noi, grazie a Scania di essere qua. Guardate, è preziosa la presenza dell'amministrazione in un'occasione come questa, voi siete tutti giovani ed è bellissimo vedere il chiostro riempito di nuove generazioni ed è insieme all'amministrazione è possibile ottenere questi risultati, altrimenti sarebbe forse impossibile se non difficile. Volevo dire solo una cosa e sono contento per questo che c'è il sindaco. Si sta generando veramente una nuova energia grazie a Guido, grazie alla Mondadori, grazie alla Fondazione di Cultura, ma lo dico in un dettaglio che si è in qualche modo realizzato ieri. Noi abbiamo un'attività che si espande sul territorio, sia Guido che io come direttore artistico anche in altre aree territoriali. Abbiamo avuto ieri la fortuna di poter proporre un evento gestito da Mondadori Bookstore che ci teniamo a ricordare anche qui, penso che facciamo bene. Martedì 30 agosto alle 18.30 Nora Venturini presenta il suo nuovo libro con Giulio Scarpati, che è un altro grande attore che ricorderete per un medico in famiglia, il protagonista. E quindi questa possibilità di poter in maniera osmotica presentare progetti e programmi di fronte a platee piene, anche ieri abbiamo avuto un sold out con Paolo Rossi, significa poter gestire in qualche modo un feedback sul territorio molto vasto che si estende oltre i confini comunali e stiamo veramente creando una rete. Questo è quello che volevo dire e mi auguro che questo possa crescere e far crescere le nostre attività. Grazie Giacomo perché la rete porta i risultati. Quindi direi adesso, mi sembra che sento il rumore, quindi direi di dare benvenuto a Matteo Paolillo. Eccolo qui. Ciao, grazie mille. Questa sera dialogherà con Flavia Capone che ringrazio, che è qui già con noi per diverse altre occasioni, quindi la ringrazio. Grazie a voi, direi di sì. Matteo, buona presentazione. Mi siedo qua. Ragazzi state tranquilli che Matteo è qui per voi. Grazie a voi per essere qua innanzitutto, in questo posto così bello e suggestivo. Sa molto da presentazione di libro, quindi... Io sono molto felice di avere finalmente un target da presentazione di libro un po' diverso dal solito come età. Sono molto felice di questo e anche tu dovresti essere molto contento di questo perché secondo me è una cosa, una bella occasione, anche per un sacco di persone, un sacco di ragazzi e ragazze che sono qui stasera. Tanto grazie per essere qua e grazie a Matteo per essere con noi. Allora, stasera parliamo di un... ti sta accecando il faro ora. No, no, volevo guardare un po' il pubblico perché poi non so cosa aspettarmi, nel senso che... C'è un po' di tutto. Non so qual è il mio pubblico che legge il mio libro, quindi volevo capire. Vabbè, alcuni ormai sono le solite facce che conosco sempre. Sono contento che siete anche qua e sì, sono molto felice. Grazie mille per essere qua. Allora, questo libro si intitola 2045, pubblicato da Solferino ed è un romanzo di fantascienza. Quindi tu hai scelto di cimentarti con un genere non facile, anche come prima scelta, soprattutto come prima opera. Perché la fantascienza è vero che dà possibilità di spaziare, non c'è limite diciamo alla propria fantasia. Però è anche vero che è un genere che deve avere una sua coerenza, no? Una sua credibilità, deve funzionare, devono esserci dei personaggi forti. Deve esserci anche uno scenario da una parte avvincente ma dall'altra parte credibile. C'è qualcosa che potrebbe veramente succedere perché così le persone che lo leggono si sentono un po' coinvolte. E ti volevo chiedere, come nascono i personaggi di questa storia? Come nasce questo 2045 nella tua testa, prima ancora, diciamo che nella tua penna? Allora, innanzitutto volevo raccontare il presente. Però poi mi sono chiesto se determinate dinamiche che viviamo oggi nel presente le trasferiamo a un futuro abbastanza vicino, cosa succede? Quindi sì, deve essere credibile. Ci tenevo al fatto che fosse un racconto realistico, come nei giorni nostri, perché è una data che non è così lontana. Ma soprattutto, molti poi mi dicono, hai scritto un romanzo di fantascienza, però in realtà non ci rendiamo conto che la fantascienza la stiamo già vivendo. Nel senso, io in realtà ho scritto qualcosa che parla di quello che già viviamo, in qualche modo. Quindi i personaggi nascono dall'esigenza di raccontare dei ragazzi che vivono in questo mondo, che è il mondo tra vent'anni, come l'ho immaginato io. E sentivo l'esigenza di farlo perché mi rendo conto che stiamo cambiando molto tra una generazione e l'altra. E quindi in tutti questi cambiamenti che in gran parte vengono dalla tecnologia, come è sempre stato, non lo so, il mondo è cambiato tanto dopo la ruota, e poi è cambiato tanto dopo l'automobile, dopo la televisione, eccetera, eccetera. E penso che ci dobbiamo sempre ricordare cosa significa essere umani, perché se la tecnologia fino a qualche tempo fa serviva all'essere umano per potenziarsi, in qualche modo, comunque per... Adesso mi rendo conto che la tecnologia serve quasi a metterci noi a servizio della tecnologia. Non siamo più noi che ci serviamo della tecnologia per fare le cose, ma è la tecnologia che si serve di noi per i fini commerciali, in qualche modo. Quindi in tutto questo mischiarsi tra l'umanità e la tecnologia, secondo me ci dobbiamo ricordare cosa significa essere umani e cosa significa essere macchine. E tutto quello che ci distingue principalmente sono i nostri sentimenti, le nostre emozioni, la nostra capacità di comunicare tra di noi. E mi sembra che questo ce lo stiamo un po' dimenticando. Poi parlo come se vivessi da 70 anni, però in realtà questa è la mia percezione. Mi sembra che rispetto a tanti anni fa, quando magari io non c'ero, le cose stanno un po' cambiando. Ovviamente io parlo per la mia esperienza, per le persone che io ho conosciuto nella mia vita e per le generazioni che io ho conosciuto. E sono molto a contatto con le nuove generazioni, quindi vedo tanto le cose come cambiano. Io continuo a parlare se non mi interrompi. Io non ti interrompo, per definizione non interrompo la persona che parla. Però no, questa cosa della tecnologia ci torniamo dopo. Rimaniamo un attimo agli scambi generazionali. A un certo punto c'è un personaggio, diciamo, tra virgolette, anziano, comunque grande, del tuo libro, che dice La vita funziona così, i giovani per capire devono distruggere, i vecchi devono lasciarli fare. Ho trovato, devo dire, molto interessante in tutta questa storia, in questo libro, proprio il confronto fra i personaggi, diciamo, più grandi e quelli più giovani, in particolare appunto quelli che sono la ribellione, cioè solo coloro che, anche un po', diciamo, sulla scia di quello che fanno adesso i movimenti ambientalisti, ma in generale quello che hanno sempre fatto i giovani rispetto a decostruire alcune cose che hanno fatto le persone prima di loro. E devo dire che questo confronto generazionale forse è una delle cose più interessanti, perché i grandi, i vecchi a volte sembrano essere totalmente distanti e a volte invece c'è come una sorta di comprensione, come dicevi tu prima, no? In passato le emozioni magari potevano essere più presenti, le relazioni, e nei giovani che cercano la stessa cosa, ecco che si trova, diciamo, un punto di legame con le generazioni precedenti. Mi racconti un po' di questo gap, diciamo, generazionale. Sì, diciamo che lui dice, i giovani distruggono, i vecchi devono lasciarli fare, perché diciamo che in particolare si riferisce alla ribellione, però più che, insomma, lasciarli distruggere, secondo me, appunto, bisogna saperli ascoltare. Cioè, nel senso che se ci sono dei giovani che si ribellano a qualcosa, evidentemente c'è un motivo forte. E i giovani trovo che siano la grande potenza della società, perché sono quelli che magari hanno meno da perdere, che magari fanno le cose con più fervore, che sentono la loro spinta ormonale per la giustizia. E quindi tutte queste cose, secondo me, vanno sempre ascoltate. Poi possono essere giuste o sbagliate, però trovo che il grosso gap generazionale sia principalmente nell'ascolto. È per questo che dico che non siamo più, non comunichiamo più allo stesso modo. Trovo che l'ascolto, in generale, stia cambiando, perché l'ascolto dipende dall'attenzione. E l'attenzione sta cambiando tanto. Io adesso, ormai sono già, non lo so, 7-8 minuti che sto parlando. E già sicuramente potete notare tra di voi chi è già più distratto e chi è più attento. Il bambino più piccolo, infatti, si sta già lamentando, giustamente. E quindi questo fa la grossa differenza. La generazione precedente ha una capacità di attenzione molto più alta, che però comunque sta perdendo, anche, insomma, dovuto ai ritmi della tecnologia, della vita, del lavoro, dalla frenesia, delle cose che ci circondano. La generazione più giovane è molto attenta a tante cose, però si annoia molto più facilmente. E io trovo che il motivo di tutto questo sia perché non viene ascoltata. E quindi se i giovani non vengono ascoltati, gli passa anche la voglia di ascoltare. E quindi è per questo che l'attenzione sta calando così tanto. Siete ancora attenti oppure... Sì? Perfetto. Però perché questi, perché loro, sta cosa l'hanno sentita già parecchie volte. Allora hanno detto, quando andiamo a sentire Matteo che parla, non possiamo distrarci, perché sennò se ne accorge. C'è anche un altro elemento, secondo me, interessante, che riguarda un po' quello che hai detto prima sulla tecnologia. E una domanda che mi è venuta in mente leggendo il libro è anche un po' pensare al rapporto fra tecnologia e arte. Qui noi tutti occupi di arte, no? In varie forme, di varia tipologia. E uno dei pericoli, diciamo, tra virgolette, che spesso si attribuiscono alla tecnologia è di sovrapporsi e sostituire anche la creatività. Che in effetti è una cosa di cui adesso si sta parlando tantissimo per l'intelligenza artificiale, ma in generale è anche un po' il discorso che facevi tu prima della tecnologia che ci usa per fare soldi. Che cosa pensi di questo rapporto fra tecnologia e arte? Lo vedi come un pericolo? Lo vedi come una risorsa? Aspetta, aspetta, hai detto qualcosa che ci usa per fare soldi. Ah, sì, sì, sì. Beh, sì, in fondo, diciamo, il sistema con cui funziona l'intelligenza artificiale è usare, diciamo, le idee delle persone, rigilarle per vendere qualcos'altro. Poi di base è questo. E che cosa pensi di questo? Cioè, pensi sia un pericolo evidente, diretto, o qualcosa che poi in fondo non si sostituirà mai? Guarda, hai aperto un discorso che forse ci vorrebbe una mezz'oretta per parlarne. Non so se... Magari poi, se ne parliamo soli e te, magari siamo attenti tutto il tempo, però... Non so... Vabbè, innanzitutto, per l'intelligenza artificiale, Hitchcock diceva sogno un mondo in cui scrivo una sceneggiatura, la metto dentro una macchina ed esce direttamente il film. E purtroppo per lui non l'ha vista ancora questa cosa, però noi ci siamo quasi arrivati. E il mondo cambia e quindi penso che... Qual è la differenza? Perché innanzitutto bisognerebbe dire che cosa è l'arte. Che ho alla fine una parola così tanto utilizzata, però mi sembra che poi per ognuno c'ha il suo valore. Quindi, che cosa è l'arte per me? L'arte è qualcosa che fa parte, secondo me, proprio della capacità dell'essere umano, del sintetizzare la vita, il suo pensiero, il suo punto di vista sul mondo, cosa che non c'è nessun altro animale. solamente noi abbiamo la capacità di osservare il mondo, rifletterci e dire il nostro punto di vista personale che è diverso da un altro essere umano. E dire agli altri esseri umani io la vedo così questa cosa, voi che ne pensate? E quindi lancia un messaggio che fa riflettere, che fa crescere la società, fa riflettere tutta l'umanità su delle cose. Questa per me è l'arte. Poi, partendo da questa bellissima utopia, il fatto che gli artisti siano dei lavoratori, che quindi puntino a dei compensi economici, quando fanno l'arte, fa incontrare l'arte col mercato, e quindi poi qua si apre tutta un'altra parentesi sulla tecnologia. Noi abbiamo la tecnologia che può farci fare un sacco di cose, poi il modo in cui la utilizziamo sta a noi. Tantissime tecnologie magari sono super utili per tante cose, eppure magari vengono utilizzate per scopo militare, faccio per dire, no? O magari le cose che vengono utilizzate per scopo militare, poi ci servono anche in altre cose nella vita, e quindi qual è la domanda in realtà? Forse la risposta è che non c'è una risposta per ora, nel senso che un po' le dobbiamo vivere. Spaventa l'intelligenza artificiale? A me, per ora non più di tanto, perché credo che sia... Per ora? Per ora, perché credo che finché rimane un qualcosa che pesca nelle idee delle persone comunque non possa prescindere dalle persone stesse, capito? Quindi mi sembra che al momento sia così. Però, la cosa che non mi spaventa... Però posso dire una cosa? Dimmi. Stai dicendo, finché va a pescare dalle idee delle persone, però, quali sono le idee delle persone? A me sembra che ci stiamo avvicinando sempre di più a una società dell'oggettivo, e che il soggettivo sia sempre più da emarginare, da criticare, da mettere sotto il riflettore della shitstorm. E quindi, quali sono le idee delle persone? Beh, ovviamente parliamo... Se ci sono delle idee che sono soggettive, personali, e che quindi rivoluzionarie, perché poi alla fine quello è l'arte, vengono un po' messe da parte. Quindi, io penso che già senza l'intelligenza artificiale noi ci siamo già oggettivizzati, quindi non mi fa così paura, perché è già il presente. Quindi non è l'intelligenza artificiale il problema. Certo, sì. In effetti, sì. Potrebbe essere una visione. Quello che poi alla fine è la grande lotta di questo libro è appunto fra coloro che vogliono deumanizzare l'essere umano e invece gli esseri umani che mettono al centro la persona e soprattutto le relazioni tra le persone, che poi è quello che fa, diciamo, la vittoria da un certo punto di vista, che supera gli ostacoli, che crea i ponti e che scardina anche la macchina, perché la macchina può fare solo quello che le viene comandato di fare, poi fondamentalmente. e mi racconti qual è stato, o qual è secondo te la cosa più difficile da spiegare e da raccontare quando si parla di questo argomento, quando si scrive di questo argomento, quando racconti anche alle persone di questo argomento, di questo libro? La cosa più difficile per raccontare questo argomento? Non lo so, vedo che comunque sono tutti abbastanza attenti, quindi in realtà non è così difficile, perché forse mi rendo conto che quello che dico non è così lontano dal proprio sentire. Tutti ci rendiamo conto di quello che ci circonda, di quello che ci danneggia, che poi siamo schiavi, non riusciamo a uscirne, io e me compreso, ma come tutti, come tutti, mi rendo conto delle nuove generazioni che si rendono conto che hanno l'ansia e non sanno perché. Però il fatto di rendere conto di avere l'ansia significa che ti rendi conto che qualcosa non va e non sai come comunicarlo. Qualcosa non va, ce ne accorgiamo tutti e non andiamo a cercare le cause, ma ci concentriamo sulla superficie. Forse la cosa più difficile quando si parla di queste cose è andare veramente in profondità, cercare veramente di cambiare il nostro approccio alla vita, ma siamo così tanto distratti da tutto quello che ci circonda che forse non ci interessa almeno più di tanto. Non lo so, sono un po' pessimista io su questo argomento, nel senso sono una persona molto felice e mi rattristo raramente, però quando penso a queste cose sì. quindi voi che ne pensate? Non lo so, io sono curioso in realtà di sapere loro cosa ne pensano. Cioè alla fine che ne pensate? Facciamoli, chiediamo a tutti quanti, uno per uno. Facciamo una tavola rotonda. No, magari alla fine un paio di domande se vogliono farle le facciamo fare, no? Però te ne faccio un'altra io prima. Tu sei del 95, giusto? Quindi in realtà non sei totalmente una generazione social, una generazione nata e cresciuta con internet. Lo sei sicuramente più di me, però comunque meno di molti di loro, per esempio. Quindi diciamo che hai percepito forse il passaggio, ed è questa un po' la cosa che ti ha spaventato, probabilmente anche avendo a che fare con tante persone più giovani di te. E cos'è che hai, cioè dove sta secondo te la trappola della tecnologia rispetto ovviamente alle vite loro, quindi insomma appunto ai social, ai internet, dove sta la trappola? Allora, io sì, sono della generazione di mezzo, cioè quella che è cresciuta, poi mi dispiace voi che siete venute a più parti, questa cosa l'ho già detta tante volte, però sono un po' della generazione che è cresciuta senza i social e poi è stata diciamo sommersa dai social durante il liceo e poi dopo, quindi diciamo che ho fatto tutta una prima parte della vita senza e poi però nel giro di un paio di generazioni questa cosa non esisterà più, nel senso sono un po' l'ultima generazione senza social, quindi sento in qualità di artista di avere una responsabilità di poter raccontare com'era la vita prima dei social network, perché nel giro di due generazioni ce lo dimenticheremo ed è il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro ed è il motivo per cui vorrei parlare di queste cose, ne parlo nella mia vita privata e mi piacerebbe parlarne anche con loro e con la nuova generazione perché con loro ci ho parlato tanto comunque nel senso spesso mi fermo tra l'altro ho letto la tua lettera il mese scorso e mi rendo conto che riflettono molto su queste cose cioè sei emozionato cioè a volte io leggo delle cose una ragazzina di 13 anni 14 anni quanti anni c'hai? di 13 anni che riflette su delle cose che io dico ma è possibile che i ragazzi che frequento io che ce ne hanno 28-29 non ci pensano a queste cose e quindi è bello vedere che delle persone che stanno crescendo e che stanno formando il proprio pensiero la propria coscienza riflettono su delle cose così importanti la trappola della tecnologia è il fatto che non possiamo farne a meno non possiamo cioè oggi se non hai il cellulare sei uno svitato quindi questa è la trappola è l'emarginazione quindi inevitabilmente dobbiamo farne parte il punto è che dobbiamo imparare a gestirla utilizzarla a far sì che sia a nostro favore e non a nostro sfavore e diventa a nostro sfavore quando innanzitutto noi diventiamo dipendenti e sono strumenti tecnologici fatti per creare dipendenza e quindi siamo tutti dipendenti da questa cosa io immagino che sappiate tutti che esistano comunque delle cliniche per disintossicarsi da questa cosa cioè io lo trovo un po' assurdo no? cioè adesso vedo che in prima fila c'è un signore non so c'è un signore c'è un signore 50-60 anni 80 anni se li porta benissimo ecco lei non trova assurdo che abbiamo creato una tecnologia e poi dopo abbiamo dovuto creare dei posti dove i giovani devono andare per disintossicarsi dall'utilizzo di questa tecnologia cioè è un po' come se io sono un grande scienziato vengo e invento l'eroina la do a tutti e poi dopo devo trovare pure il modo per fare disintossicare perché ci stanno troppo sotto e questa cosa è successa a tutti e questa è la trappola e succede perché più tempo utilizziamo il cellulare più tempo qualcun altro guadagna e quindi non se ne scapperà mai perché non si può scappare dal capitalismo quindi siccome non si può essere degli emarginati perché dobbiamo utilizzare la tecnologia io non sono contro anzi cioè ben venga però mi chiedo dove ci porta dove arriveremo adesso non lo so fantasticando tra vent'anni mettiamo conto che Elon Musk riesce a portare avanti il Neuralink cioè per chi non lo sa un dispositivo che attraverso il tuo pensiero può controllare delle apparecchiature elettroniche cioè puoi accendere la televisione puoi guidare la macchina puoi usare il cellulare senza dover usare le mani mettiamo caso che questa cosa tra vent'anni diventa di uso comune e io decido di non volerlo utilizzare però poi vado a fare un colloquio di lavoro e mi dicono eh sì però guarda c'ho quelli che mi muovono le macchine col pensiero tu dove vai capito cosa voglio dire cioè nel senso non possiamo neanche diventare obsoleti rispetto a quella che è la società però mi chiedo che cosa stiamo diventando non voglio sembrare mio nonno che ha paura del futuro però secondo me abbiamo la capacità di ricordarci cosa significa essere umani ce l'abbiamo e sarà sempre così nel senso che ce ne renderemo sempre conto quando qualcosa non va perché abbiamo l'ansia e quando c'hai l'ansia ti rendi conto che ti stai allontanando dalla tua umanità e quindi vai a indagare e capisci che c'è qualcosa che non va sbaglio Gaia lei ha 13 anni e lo sa benissimo quindi figura di figura di quelli più grandi se non lo sanno mi hai fatto venire in mente una domanda con questa cosa e prima abbiamo hai detto che il problema è che le generazioni più giovani non vengono ascoltate io credo che un altro grande problema sia il pregiudizio che si ha sulle generazioni più giovani cioè tutta una serie di pregiudizi che a volte non hanno nessun tipo di non so come dire cioè non vengono verificati rimangono pregiudizi qual è secondo te o quali sono dei pregiudizi grossi che pensi che le generazioni dei grandi abbiano sui giovani ho aperto un vaso di Pandora io ho 28 anni quest'anno ne faccio 29 ma sembro molto più giovane almeno così mi dicono non lo so e quindi quando poi vado a fare queste cose o comunque parlo in pubblico io dico la mia dico quello che penso nel senso che se sto con i miei amici al bar iniziamo a filosofare dico le stesse cose però mi rendo conto che invece tante volte mi è capitato più volte di avere questa bruttissima sensazione mi sento un po' come se non avessi tanto il diritto di parlare nel senso io adesso sono qua è un festival di letteratura ci saranno stati sicuramente tanti altri scrittori più colti e intelligenti di me e quindi io ho un po' quella sensazione di dire ma io ho 28 anni ma che cosa ne so della vita e trovo che questa sensazione ce l'abbia tantissimo la nuova generazione e penso che i ragazzi di oggi passano il tempo a osservare i grandi aspettando il tempo di poter parlare con i grandi e di essere ascoltati veramente però la domanda è quando è che si diventa grandi cioè quando è che si ha il diritto di parlare in questo paese cioè qual è l'età per poter dire ah ok adesso cioè io ho un sacco di amici colleghi eccetera che non solo colleghi ma proprio in generale qualsiasi tipo di lavoro che hanno 30 anni fanno il loro lavoro da 15 anni hanno studiato una vita e c'è ancora 30 anni nel senso che sei un emergente sei appena appena cominciato questo è un po' l'atteggiamento e quindi la crisi dei 30 anni è sempre più forte perché perché mi rendo conto che arrivi a 30 anni che hai già vissuto un po' nel senso ovviamente non hai vissuto di 80 però non vieni preso in considerazione per niente sei ancora molto giovane non hai il diritto di dire la tua perché alla fine tu che ne sai della vita e trovo che questo atteggiamento nelle nuove generazioni sia ancora più più pesante invece la cosa meravigliosa per me è che ogni generazione ogni età ha il suo punto di vista e io mi meraviglio sempre quando li ascolto e quando eppure ci passiamo non lo so 10-15 anni e trovo delle cose completamente diverse dal punto di vista della mia generazione quindi cresco perché imparo il mondo come sta andando a me piacciono tantissimo per esempio i professori o quelli che lavorano con i bambini perché sono persone che stanno sempre in continuo aggiornamento su come sta andando il mondo e invece trovo che specialmente in questo paese quello che succede spesso è che i grandi pensano solo a quello che pensano i grandi e non gli interessa tanto sapere cosa pensano i giovani perché tanto perché tanto non è che chissà che pensano che ne sanno loro della vita questo è un po' l'atteggiamento secondo me mi sbaglio? no no è giustissimo è la grande fregatura vedo i giovani che annuiscono i grandi che fanno no no è la grande fregatura questa pensare che loro non abbiano niente da dire ce lo fanno apposta i grandi non è che ci vedono no no ci tengo a dire lo dico senza presunzione nel senso dico il mio punto di vista è quello che vedo mi sembra che sia difficile parlare se non hai una determinata età o se non hai conosciuto il mondo abbastanza ma alla fine poi è tutto relativo perché dipende come la vivi la vita e quanto osservi il mondo puoi avere 50 anni e non avere il tempo di pensare neanche un secondo nella tua vita perché lavori dalla mattina alla sera torni a casa che c'è mal di testa e ti metti a letto e va bene così però magari hai avuto la fortuna di poter avere del tempo libero su riflettere su una cosa e perché non puoi condividerla con gli altri invece mi sembra sempre che ci sia un po' di snobbismo in generale ah perché lo snobbismo giusto lo snobbismo è funzionale a creare una distanza e a permettere a qualcuno di decidere per gli altri semplicemente cioè credo semplicemente è orribile però credo che questo sia un po' il senso della cosa ed è il motivo per cui invece secondo me come dici anche tu a un certo punto come scrivi nel libro è giusto che i giovani i più giovani si ribellino sempre perché insomma ovviamente quando è giusto quando hanno qualcosa da dire ma hanno sempre qualcosa da dire perché c'è sempre qualcosa come hai detto anche tu prima che ci preoccupa in qualche modo senti invece ho quasi finito poi dopo ve lo lascio per quanto riguarda proprio l'esprimerti scrivendo scrivendo una storia che tipo di sensazioni provi hai provato nello scrivere una storia che fosse lunga quindi non una canzone diciamo una forma più complessa allora è stato molto bello perché io volevo raccontare queste cose avevo proprio l'esigenza di farlo e tutta questa esigenza e questa responsabilità la vivo da quando da quando ormai non lo so da tre o quattro anni da quanto tempo ci conosciamo vedo frequentemente delle persone dei ragazzini che che mi seguono dovunque vado e mi dicono la loro mi dicono mi parlano dei loro problemi mi parlano come se fossi un assessore però e e quindi sento un po' la responsabilità da assessore in qualche modo a parlare alla nuova generazione che mi segue o comunque almeno al gruppo di persone che sono interessate a quello che dico e e non potevo farlo con una canzone perché era troppo riduttivo ci ho provato anche ho fatto qualche canzone sull'argomento ma ma era troppo sintetico e quindi ho cominciato a raccontare questa storia ed è ed è bello perché in una canzone devi sintetizzare tutto quindi è una forma più poetica però hai dei confini molto limitati invece con con un romanzo di 350 pagine non so più o meno non mi ricordo puoi raccontare tantissime cose puoi raccontare i dettagli puoi raccontare come vedi le cose per filo e per segno e quindi è stato molto più soddisfacente dare libero sfogo con la mia scrittura poi magari ho dovuto fare dei tagli eccetera però senza avere il problema di doversi dilungare nella pagina o ad esempio quando si scrive per una sceneggiatura di pensare al budget no la cosa bella di un libro è che puoi immaginarti la storia che vuoi invece quando fai un film se fai un film e ci metti un drago nel film il produttore dice guarda mi sa che questo film non te lo posso produrre perché deve fare il drago e quello è il problema invece con la scrittura questa cosa la puoi fare quindi mi sono divertito tanto e spero che questa storia arrivi a qualcuno e che faccia tesoro di quelle che sono le tematiche ci rifletta e magari ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo per cambiare un po' il mondo nella direzione che credo stia prendendo un'ultima domanda perché c'è un altro tema grande nel libro che è un po' quello della famiglia perché in fondo ci sono due grandi famiglie in questo libro c'è una coppia di fratelli con i propri genitori e poi c'è diciamo un padre e un figlio e anche il tema diciamo dei conflitti all'interno della famiglia e di quanto diciamo per realizzare la propria libertà ci sia bisogno di staccarsi dal nucleo familiare e credo che sia anche questo un tema che forse ti trovi ad affrontare molto spesso con le persone giovani insomma che ti seguono e il contrasto che a volte è diciamo necessario anche con la propria famiglia che tipo di riflessione volevi fare su questo? Allora innanzitutto volevo dire che mi veniva in mente la frase che credo di Anna Karenina che dice tutte le famiglie felici sono uguali ogni famiglia felice è infelice a suo modo e su questa cosa c'è ovviamente un po' di tema biografico nel senso che io sono andato via di casa a 18 anni quindi mi sono allontanato dal nucleo familiare per crescere e quindi siccome i due protagonisti che in realtà sono tre però insomma tutti e tre i protagonisti si allontanano dal nucleo familiare per fare questo percorso Babilonia fa il suo percorso Zaino fa il suo percorso Ramazzone fa il suo percorso e dentro questa crescita dentro questo percorso si allontanano dal nucleo familiare che forse è un po' come io vedo il meccanismo di crescita io sono cresciuto quando ho lasciato il mio nucleo familiare e poi ho parlato di conflitti di cose che succedono questo non è insomma una cosa tanto autobiografica perché io ho un bellissimo rapporto con la mia famiglia e sono super contento di avere i genitori che ho però di tante cose che mi rendo conto quando mi guardo intorno e mi rendo conto che la maggior parte dei problemi che affrontano i ragazzi i giovani o chiunque nella vita sono i problemi che ci hanno con la famiglia e questo dico io diceva Freud quindi poi alla fine parte tutto da là e quindi a volte spesso anche io mi interrogo su questa cosa e dico non deve essere per niente facile essere genitore perché sai che sei responsabile della vita di un essere umano che poi prenderà il suo percorso e sarà per tutta la vita condizionato da quello che hai fatto tu nella tua vita e quindi una bella responsabilità forse il motivo per cui non si fanno più figli è questo oltre ai sussidi economici però sì comunque si è ragione può essere questo grazie mille grazie mille Matteo Parillo grazie a tutti voi che siete stati con noi questa sera aspetto eccola grazie a voi grazie a Matteo Parillo grazie a Flavia Capone grazie a tutti voi per aver partecipato questo pubblico giovane è una meraviglia grazie davvero e soprattutto voglio rivolgerti i miei complimenti perché a nome del festival della Velletri Libris siamo stati onorati della tua presenza perché chi viene qui e comunica attraverso un libro è sempre il benvenuto grazie davvero grazie a voi grazie grazie mille allora vorrei prima di darvi ripetervi le istruzioni per il firmacopie vorrei fare un saluto alla consigliera della città metropolitana Marta Bevilacqua e al nostro sindaco a Scaniocascella allora io vi do le istruzioni come vi abbiamo già anticipato Artemisia Moletta la fotografa è qui per voi quindi potete mettere in tasca i cellulari vi farà lei le foto e da domani le potrete scaricare gratuitamente dalle nostre pagine social vi ricordo di mettervi in fila per la firma delle copie e grazie ancora buon proseguimento di serata grazie mille grazie mille